Un trionfo, possiamo dirlo. Il Monza che vince 3-1 al Bente Godi di Verona grazie alla doppietta di Lorenzo Colombo in Serie A, la prima nella massima serie per l'attaccante Brianzolo. Il Tris ha ancora firmato Made in Brianza, ha segnato Luca Caldirola. Vittoria mai in discussione al Bente Godi con Palladino che ha cambiato modulo rispetto al solito. Monza che ha giocato molto spesso in questa gara con un 4-2-3-1 inedito con Chiriacopoulos largo a sinistra, D'Ambrosio a destra. Ci ha un po' fregato sulla formazione perché ieri ha provato soluzioni diverse, moduli diversi, giocatori diversi. Infatti la formazione l'abbiamo cannata un po' tutti stamattina, noi in particolar modo, ma la prendiamo assolutamente con diplomazia. Io ci metto la firma e per sbagliare tutte le domeniche la formazione e poi vincere in questo modo, in questa maniera, così convincente. Niente a dire, vittoria quasi mai in discussione con il Verona che si ha preso una traversa nel primo tempo con Duda, ma il Monza ha legittimato questa vittoria giocando una signora partita e andando a capitalizzare quelle occasioni che ha creato nell'arco dei 90 minuti. Ecco, se dovevo muovere una critica alla squadra di Palladino, la poca cattiveria nel primo tempo ha avuto una grossa chance con Vignato, una grossa chance con Colpani, abbiamo dovuto aspettare il quarantesimo per segnare, ma va bene così. La partita dura 90 minuti, poi segna il primo gol al quarantesimo, poi ne segna altri due nel secondo tempo. È una squadra questa che sta crescendo anche grazie ai tanti giovani che sta impiegando Raffaele Palladino. Colpani ormai è una solida realtà, come recitava uno spot pubblicitario qualche tempo fa. Vignato io ormai lo considero un titolare a tutti gli effetti, oggi mi aspettavo Mota in campo dal primo minuto, il portoghese è entrato solo nel secondo tempo. Vignato è ormai una certezza, qualcuno in maniera anche un po' maliziosa, ieri gli ha chiesto a Palladino, ma se non si fosse fatto male Caprari e se non avessi perso il Papu Gomez per la nota squalifica, l'avresse schierato così tanto, lui l'ha messo, ha detto, le occasioni insomma, a volte nella vita vengono anche un po' per caso, però Vignato era sempre stato al centro del progetto, tant'è che il Monza non lo ha voluto mai cedere in prestito, come è capitato per tanti altri giovani. Quindi il Monza ci credeva fortemente in questo ragazzo, merito sì di Palladino che lo sta schierando, ma soprattutto di Adriano Gagliani. Gagliani è stato il primo dirigente a crederci, ad investire pesantemente su di lui, a battere la concorrenza e a portarlo a casa. Così ha fatto, ma soprattutto non l'ha mai voluto cedere. Io vi dico la verità, dopo una stagione come la scorsa, dove è stato impiegato col contagocce, la scorsa estate mi aspettavo un prestito di Vignato, non so, in una squadra di serie B di alto livello, in una squadra di serie A di basso livello. Invece no, il Monza l'ha tenuto qui e il Monza ci ha creduto. Quindi non diciamo che Vignato sta giocando perché non giocano gli altri. Vignato sta giocando perché il Monza ci ha creduto. Punto. Questa è un po' la situazione di casa Monza per quanto riguarda i giovani. Nel secondo tempo sono entrati anche Valentin Carboni, è entrato Bondò. Sono ragazzi in cui ci crede Palladino e secondo me il minutaggio aumenterà nel corso delle prossime partite anche perché ci sono delle partite ancora alla portata del Monza. Ci sono due sfide, prima il Torino, poi c'è la sosta, poi si andrà a Cagliari dove Palladino può permettersi anche di schierare magari qualche titolare in meno e qualche giovane in più e lo sta dimostrando in queste ultime partite. Non mi soffermo troppo sull'arbitro che secondo me è stato abbastanza disastroso anche oggi pur non condizionando, per fortuna nostra, il risultato. Però non mi spiego perché si debba ammonire subito D'Ambrosio per un fallo assolutamente tranquillo nella metà campo del Verona quando loro, non dico che hanno picchiato come di Fabri, però insomma sono andati giù pesanti, alla fine gli ammoniti ne hanno butti veramente pochi. Quindi sull'arbitro poi parlerà il mio amico Paolo Corbetta nell'editoriale che uscirà domani su Monza News in apertura. A proposito di domani vi ricordo l'appuntamento alle 21 con Monza, una città da Serie A. Parleremo di questa bella vittoria, avremo tanti temi di cui discutere, avremo in studio il primo giornalista in Italia che ha parlato del possibile passaggio societario del Monza, dei possibili cambiamenti anche se sono stati smentiti. Però ci faremo raccontare magari anche qualche retroscena, qualche sensazione su quello che sarà il Monza del futuro. È un Monza che può però guardare il futuro con tanta positività. In questo momento la squadra è ad un passo dalla zona europea ed è molto lontana per fortuna dalla zona retrocessione. Se l'Empoli non dovesse vincere domani sono nove le lunghezze dal terzo ultimo posto e va bene così. Speriamo anzi di aumentare il gap nelle prossime due partite che non saranno assolutamente facili con Torino e Cagliari per poi insomma goderci un bel finale di campionato, una bella seconda metà di campionato dove possiamo magari chissà continuare a sognare quel sogno chiamato Europa. Insomma l'abbiamo accarezzato tanto lo scorso anno, l'abbiamo sfiorato fino all'ultima giornata, chissà magari quest'anno andremo avanti a parlarne per tanto tempo. Ma secondo voi questa squadra è costruita soltanto per salvarsi o può cominciare a sognare? Ditemi la vostra qui sotto. Ciao, alla prossima!